Siamo qui con il regista Gianpaolo Vallati, il protagonista Angelo Orlando e lo sceneggiatore Francesco Alibrandi della pellicola Cara ti amo, altra opera prima in concorso all'undicesima edizione del festival. Dunque Gianpaolo, il tuo primo lungometraggio ha avuto un debutto importantissimo perché hai vinto quest'anno come miglior film italiano il RIF 2011, siete stati ospiti a Mare Metraggio e adesso il festival di Foggia, quindi direi un inizio importante. Beh mi sembra molto positivo diciamo, quando abbiamo pensato al film io e Francesco non pensavamo a un film fatto per i festival, ci siamo detti vogliamo fare un film per il pubblico, un film divertente però un film che faccia anche pensare. Evidentemente questo aspetto del far pensare è stato capito, compreso e i festival ci hanno chiamato, quindi la commedia può a buon diritto partecipare a un festival se non è la commedia sciocca quella fatta solo per ridere. Infatti abbiamo detto che è una commedia bellissima incentrata sulla storia di quattro amici quali non possono vivere con le donne ma non riescono neppure a vivere senza le donne. I quattro personaggi sono stati presi da quale tipo di spunto? Beh diciamo ci siamo un po' guardati intorno e abbiamo raccontato un po' noi stessi, i nostri amici, quello che noi viviamo abitualmente e ci abbiamo messo ovviamente molto del nostro in questa situazione. Ovviamente quattro personaggi perché abbiamo dato tutte le sfumature possibili di un mondo maschile che non è molto articolato come poi si vede nel film, nel senso che c'è solo uno dei quattro personaggi che ha una consapevolezza più forte rispetto agli altri. Però in qualche modo poi ecco tra di loro il contraltare che si fanno riesce a rendere bene il mondo maschile. Allo sceneggiatore volevo chiedere sappiamo che addirittura dopo la vittoria del Riff avete rimesso mano alla sceneggiatura per ripensare la scena finale? Sì questi sono i vantaggi comunque del digitale che ti permette di intervenire in qualsiasi momento. Noi avevamo chiuso il film pensavamo di averlo portato a casa come si dice e dopo la visione, dopo altre piccole visioni che abbiamo fatto ci hanno fatto notare che il film non chiudeva bene, non era proprio tondo e noi ci siamo resi conto di questa cosa, era vera e allora con Gian Paolo abbiamo riscritto, abbiamo rigirato, abbiamo rimontato, abbiamo inserito e abbiamo dato una chiusura diversa, più consona perché comunque era più giusto chiudere con i quattro personaggi insieme. Angelo Orlando torna di nuovo al Festival del Cinema Indipendente di Foggia, volevo chiederti il personaggio di Rosario in questo film è molto diverso dal tuo modo di essere, dal tuo modo di intendere l'amore? Sicuramente no, qualcosa appartiene al personaggio e qualcosa appartengo io al personaggio, sicuramente nel gioco dell'attore, nel lavoro dell'attore, c'è sempre un confine molto fragile che separa l'uno dall'altro e non credo di essere poi tanto distante dal personaggio di Rosario in ciò che cerca perché un po' tutti quanti, anche se non lo sappiamo, abbiamo prima o poi a che fare con la ricerca dell'amore e ci innamoriamo e giochiamo un po' con il desiderio dell'amore appunto, desideriamo l'amore. In sostanza vorrei avere una risposta breve da ognuno, ma uomini e donne riusciranno mai a comunicare? Ma non lo so, questa è una domanda difficilissima, noi abbiamo scritto un film sopra e abbiamo visto che poi alla fine non è così facile, però è il tentativo che comunque dobbiamo fare. Sì, dobbiamo fare, secondo me il tentativo da fare è la ricerca di un amore un pochino più consapevole, cioè quindi scoprire davvero che cos'è l'amore, perché l'amore vissuto così senza sapere bene che cosa sia è un po' come tenere una bomba a mano nella tasca, è una magia, quindi bisogna imparare un pochino anche a essere dei maghi per amministrare questa magia e quindi bisogna conoscere. Io credo di sì e spero di sì, soltanto che la comunicazione non viene fatta solamente tramite lo stesso linguaggio, cioè non bisogna soltanto poter parlare la stessa lingua, ma credo che bisogna andare anche incontro all'altra persona, quindi esporsi anche a volte, quindi senza paura, senza timore. Grazie a voi per essere stati con noi al Festival. Grazie. Grazie.